Un disegno di legge dal nome pretenzioso, la buona scuola che da nord a sud sta facendo storcere il naso a chi nella scuola ci vive e ci lavora. Ancora proteste contro la riforma Renzi-Giannini che anche in Calabria ha portato di nuovo in piazza gli insegnanti nelle stesse ore in cui a Montecitorio, assediata dai manifestanti, si compie l'ultimo passo verso l'approvazione. A Catanzaro gli insegnanti hanno dato vita, affiancati dalla CGL, a un partecipato sit-in in piazza prefettura. Gli slogan hanno tutti lo stesso tono, condensato nelle dichiarazioni del segretario generale della Camera del Lavoro di Catanzaro, Giuseppe Valentino. Siamo in piazza con gli insegnanti contro un provvedimento imposto, ha dichiarato Valentino. Si tratta di un governo sordo che non solo non ha ascoltato le proposte emerse in questa lunga battaglia a difesa della scuola pubblica, ma con trucchetti indegni di un paese civile tenta il colpaccio forte dei numeri in Parlamento. In piazza anche gli attivisti del Movimento 5 Stelle. La scuola italiana non riceve supporto dalla politica ormai da più di un decennio, dichiarano. Il governo Renzi, in segno di continuità con i suoi predecessori, ha deciso di rubare finanziamenti alla scuola pubblica per trasferirli a quella privata.